Nel corso di formazione dedicato agli ebook vedremo innanzitutto di cosa si tratta, cosa siano cioè gli ebook. Si tratta naturalmente di libri elettronici, la i di ebook sta proprio per questo, electronic book. Hanno la caratteristica di essere formati aperti a modifiche costanti, questi naturalmente si sono prodotti da noi come autori. Poi consentono rispetto a un libro tradizionale una ancor più forte multimedialità. Oggi un qualunque libro di testo cartaceo è per sua natura multimediale in quanto presenta delle immagini per esempio. Gli ebook accanto alle immagini possono naturalmente incorporare in maniera molto semplice anche dei video e dei suoni. Come usare gli ebook? I modi sono molteplici. Innanzitutto è possibile trasformare i nostri documenti, per esempio PDF, per esempio Word, in ebook attraverso dei programmi con dei semplici passaggi. In questo modo trasformiamo in libro elettronico quello che è semplicemente un documento elettronico, un file elettronico. In tal caso il documento creato potrebbe essere letto con molta facilità, sfogliato con molta facilità da dispositivi come smartphone e tablet, per esempio, oltre che naturalmente dai personal computer. Poi è possibile anche modificare, questo è già un aspetto più interessante, i nostri libri o i nostri documenti inserendo materiale multimediale. Penso a dei video, a degli audio o a delle immagini. Alcune possono essere anche da noi sviluppate, penso alle immagini, o dei video che possono invece essere reperiti dalla rete. Immagino quel grande repository che può essere YouTube o altri siti affini. Poi vedremo anche come creare un ebook da zero, che è forse l'aspetto più interessante, anche se naturalmente più dispendioso in termini di energie e di tempo, perché partiamo da un file vuoto. Un altro aspetto non secondario, e direi decisivo, per quanto riguarda la diffusione dei nostri contenuti, anche solo nel nostro gruppo classe, è quello del caricamento di questi ebook in dei siti appositi nei quali noi possiamo consentire a tutti, ad un gruppo, dietro password, il download, vale a dire lo scaricamento del libro o anche la sola consultazione online. Quali sono i vantaggi degli ebook? Senza entrare nella querelle tra libro cartaceo e ebook, che non sono in un reale conflitto tra loro, ma necessitano semmai di una migliore integrazione, i vantaggi degli ebook sono senz'altro quello di essere fortemente multimediali, perlomeno da un punto di vista potenziale, di essere anche trasportabili in grandi numeri. Quindi se pensiamo che un lettore di ebook in pochi grammi può trasportare decine, se non migliaia, di libri, e anche un tablet può fare lo stesso, con il vantaggio in più del tablet di essere a colori e di poter fruire più facilmente, più agevolmente di video e audio. Poi un altro vantaggio è che essi hanno dei formati aperti e modificabili, modificabili da noi o da altri utenti. Parlo soprattutto di alcuni formati. Naturalmente alcune aziende, penso ad Amazon col suo Kindle, hanno dei formati chiusi, per ovvi motivi di natura commerciale. Noi tuttavia impareremo a gestire dei formati il più possibile aperti, anche per non legarci ad un particolare vendor, ad un particolare marchio o ad una particolare tecnologia proprietaria. Un altro vantaggio è che possono essere prodotti non necessariamente dai docenti o solo dagli alunni, ma anche da entrambi, collaborativamente e durante tutto il corso dell'anno, perché sono un formato costantemente aperto. Un altro vantaggio è che possono essere scaricati in maniera estremamente semplice, peraltro in genere occupano uno spazio molto limitato e talora in alcuni casi sono anche gratuiti. Ci sono infatti online molti repository di libri elettronici liberamente scaricabili, ora dire gratuiti. Cosa impareremo nel corso? Innanzitutto una prima operazione che forse è la più utile per chi ha le prime armi è quella di trasformare i propri documenti in ebook. Questo è il caso più semplice, trasformare un pdf, per esempio, che è solo parzialmente ebook, in un libro elettronico, oppure un nostro file word, per esempio. Poi, e questo è già uno step successivo, impareremo come aggiungere la multimedialità, foto, suoni, video, per esempio. In particolare i video che hanno un maggiore impatto anche dal punto di vista didattico. E poi, allo stesso tempo, questo è l'aspetto più impegnativo ma anche più interessante, impareremo come creare un ebook da zero, o tramite software, o software intendo che si installano nel computer, o tramite dei tool, degli strumenti online, vale a dire dei siti, che consentono una creazione persino online, quindi senza la necessità di installare sul proprio computer dei programmi specifici. Cosa è necessario? Naturalmente una connessione ad internet, questo soprattutto se vogliamo utilizzare i tool online e se vogliamo caricare i nostri libri in spazio online. Dunque, si rende necessario semplicemente un browser o eventuali software, se decidiamo di creare i nostri libri attraverso la modalità software. E per quanto riguarda i tool, noi possiamo dire che useremo essenzialmente ipubeditor.it, che è un sito molto ben fatto italiano per la creazione appunto di ebook. E' gratuito in molte sue parti ed è a pagamento per alcune funzionalità avanzate. Altri strumenti sono Calameo e Issue, molto noti. Questi siti consentono in modo del tutto automatizzato di trasformare un proprio documento, poniamo un PDF, in uno sfogliabile presente online. Quindi in uno sfogliabile per consultare il quale sarà necessario semplicemente avere l'indirizzo internet in cui esso è caricato. Oppure, questo se ci rivolgiamo all'ambito software, vedremo l'uso di Calibre, che è un software per la creazione vera e propria di ebook, di una certa semplicità. Per quanto riguarda il numero di incontri e ore, possiamo dire che un corso di questo tipo rende necessarie 8-10 ore per un totale circa di 3 o 4 incontri. Grazie. Grazie.